Si è chiusa con grande successo l'edizione 2024 della Cortona Jazz, 500 gli appassionati che hanno affollato i concerti, ospitati dalla Fortezza del Girifalco e dal Teatro Signorelli. Il festival ha dato vita ad un progetto ambizioso, una finestra aperta sulla potenza creativa del jazz contemporaneo portando il pubblico toscano e non solo a contatto diretto con le ultime evoluzioni dell'avanguardia jazz statunitense. Le esibizioni hanno visto un pubblico numeroso e appassionato che ha risposto con entusiasmo lasciandosi trasportare dalle improvvisazioni travolgenti e dalle atmosfere sofisticate.